Bentornati carissimi amici, ho preceduto Sara, dillo pure dai, anche in ritardo dillo Ciao, bentornati dal canale, avevo dimenticato il microfono Sì, toccandolo sai che fai? No, no, si sente da fastidio E oggi abbiamo una busta sorpresa, all'interno trovi due magazine, due sorprese, gioca con Barbie Maxi, Natalizio E incluso c'è, contiene anche una sorpresa Polly Pocket A noi piacciono un sacco le Polly Pocket Apri tutto, squarta, squarta tutto, vediamo Ecco qua, pian 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 pian, vediamo le riviste prima Le riviste, ma sono attuali o hanno fatto un... Ci sono degli accessori per delle Barbie Sapete cosa hanno fatto? Giusto per non buttare, fanno anche mene Questa è una rivista di novembre, quindi potrebbe capitare che uno l'ha già vista E questa è la rivista del 2019, questa è di febbraio 2019, quindi sono belle vecchiotte E' vero che il prezzo è molto basso, però non sono recenti Però le guardiamo lo stesso, visto che non lo abbiamo Le vuoi guardare? Guardiamole Allora, intanto guardo il prezzo perché non lo trovo Da grande sogno di? 5,99 6 euro Che poi 5,99 lo mettono solo per farti credere che costa tipo 5 euro E invece costa 6 praticamente E ti danno anche quella brutta monetina di rame che poi non va neanche nelle macchinette Questo da completare, lo completerò di sicuro Questo cercare alle parole Spero che ci sia un labirinto, io sono bravissimo per i labirinti Li faccio anche sul diario Perché sul mio diario ci sono i labirinti scritti Questo l'ho fatto io, c'è un mini quiz Ah, questo l'ho fatto io Labirinto! Sì! Ma non è possibile Ah, no, ma le ciambe Aspetta però Per uscire dal labirinto E quante ciambe le raccoglierà lungo il percorso? Ma scusa, ma che cavolata è? 2 Ma non ha senso così facile Aguzza la vista Riesce a trovare differenze spaziali Una Una Due Due Tre Quattro Quattro Cinque Quattro Sei No Questa Fatto Perché sono Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Beh, sarebbe anche questa stella No, ma è tutto insieme Cinque 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 Ci fermiamo a cinque Ci fermiamo a cinque Se no No, no Rimaniamo qua Fermi Qui le ricette Colora tu E qui La nuova collezione Proprio nuova Ma che nuova Noi ce l'abbiamo Rocker Cioè io l'ho chiamata Rocker Ok Vai Vuoi vedere anche il secondo Sì Vediamo velocemente anche il secondo Story Story 4 Grande novità Siamo andati a vedere al cinema due anni fa Sì E io ho la Barbie di Ray Ma con i capelli verdi L'abbiamo fatta vedere Credo Sì A colpo d'occhio Ma questi vestiti Ma questi vestiti Sono quelli delle Stacy Sì Sono quelli delle Stacy Che abbiamo aperto Stacy Skipper ovviamente Labyrinth Super Labyrinth Mi piacciono Mi piacciono quelli lì Proprio difficili Sono i miei preferiti A me piacciono questi invece Con le parole da trovare Ma io sono un po' curioso Di vedere cosa c'è nelle bustine Però vedo che lei È interessata a vedere Il magazine Sì Bene Bene Procediamo Bene Manca poco Ci siamo quasi La pubblicità finale Cavalli Che forse abbiamo No questi qui no Un superjet Un aereo E dei colori E adesso Andiamo ad aprire Le due sorprese Questi sono degli accessori Per delle Barbie Quindi se tu hai una Barbie Che ne so Tu che stai guardando È una Barbie Puoi metterle a questi accessori Che adesso vediamo Da dove si apre? Ovviamente nelle buste sorprese Tendono a mettere Delle cose un po' passate A un prezzo più basso In modo che siano convenienti Per tutti E via Sei riuscito ad aprire? No Hai tagliato con la forbice E non hai aperto Guarda mano No no guarda Faccio un taglietto qua Che c'è il buco E mi fermo qua La collana Sta borsa Questa borsa Va bene Non è andata male Dai No Già è carina Vediamo cosa Che è di Polly Pocket Neanche qua Neanche qua C'è l'apertura facilitata Quindi dammi Come no Come no Ma non c'è Ma non c'è Anche in quella di Barbie c'era Io ce ne ho qualcuna di questi qua Ciondolini Ah ma sono quelli a ciondolino questi? Sì credo di sì Le mini polli No le polli Perché le altre sono le polli più grandi Plastica Plastica Scatta Ma è diverso da quello pollio È un gelato diverso Ecco qua Un ciondolo Gelato La polli è la stessa Si apre E potete posizionare dentro la polli Vediamo la polli Arrivo Con l'accetto Si può portare in giro Appesa al collo Quando avete Tu vuoi vedere la Spazio Siete in macchina Volete portarvi qualche gioco comodo Sul pullman Per i viaggi lunghi Tu vuoi vedere La checklist Allora Questa è la polli Intanto Aspetta che la mettiamo a fuoco bene Perché è roba piccola Un filino Eccola qui Perfetto Bella Ma quel gelato è diverso Allora Noi abbiamo Il fenicottero La pizza Questo Il videogioco anche No No il videogioco no Il gelato Le patatine Le patatine L'astronave No Noi abbiamo questo Ma Questo Su Qui Ma questo qua L'anello ciambella ce l'abbiamo In alto No No Io vorrei Questo qua Che è quello che ti dicevo Eh questo è serie 1 Roba vecchiotta No ma questi non li ho mai visti Questi qua Eh probabilmente Perché sono quelli che si trovano Sono le varianti Questi qui si trovano anche comprandoli personalmente Questi li trovi solamente nelle bustine chiuse Allora io vorrei questa la sirena L'avocado L'avocado E il videogioco Bene Vediamo Rivediamo un attimino quello che abbiamo trovato Mi hanno trovato Questa collana L'hai messa dentro la polli? No è qua? No Aspetta mettiamo tutto qui così Con pure gli zuccherini di cioccolato ragazzi Cioè dalla telecamera sembra azzurro Ma in realtà è verde È vero È vero Sarà la luce Poi vedremo come viene filmata finale Non so perché ma la telecamera ha problemi col verde Abbiamo trovato questi qua E poi i due magazine Bene E quindi? Vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao